serve una mano niente bambini com'è stato il tuo figlio? bene, penso Kachi ha una sorella qui in memphis venivamo tornando a visitarla eravamo in una stazione di gas e un uomo aggrabbi il mio figlio pensavo che lo stavano chiedendo eravamo con il figlio in circa 2 secondi è stato fortunato che eravamo qui abbiamo visto molti di bambini prima che abbiamo scoperto i Herschels ma siamo una famiglia difficile non è niente che farà noi hai mostrato interesse per la sua famiglia va bene, qual è il vostro piano? scusa, farlo subito va bene quindi non c'è bisogno di... ah là c'è... ma non l'avevo visto prima boh, era andato adesso andiamo un po' a parlare con Herschel ok devi parlare, non stare zitto ho avuto un passaggio ho avuto un po' a parlare e poi eravamo in un po' a parlare andavo in un po' a parlare andavo in un po' a parlare hmm, beh, tu non sei più peccato da dove questa famiglia è una buona strada di lande eh, se tu mi ha detto di 20 anni fa che mi sarebbe ancora fare questo mi sarebbe detto che tu eravamo di freddo non c'era mai un plan avere un po' a parlare non c'era un po' a parlare era in la famiglia e credo così ero la famiglia è importante è tutto che importa hai concetto? si 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 dove è la famiglia ora? bambini? 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 è un po' a parlare beh, spero che sono bene ha una voce metallica questa e ora hai questa piccola chiusa a guardare Clementine, è? hai proprio scoperto su ella? mmmm sì ero ero cercando di aiutare in casa hm hm posso darvi un po' di consiglio? certo certo ah, c'è davvero come risposta non so chi sei o cosa hai fatto ma te direi che cosa non si fai bene in le città e le si fai male se fai male si sei che dovresti ripensare la chi lo so se se i i i i i Se non ci si tratta di domani, tu sarai problemi. Ma almeno hai un'efficienza di ascoltare a un uomo che ti ha dato un consiglio. Andiamo! Mi prenderò la scuola! Ah, oddio Oddio, devo scegliere chi salvare, ragazzi Allora, aspetta Aspetta un attimo, devo pensare Il bambino No, è un bambino, voglio salvare il bambino Mi dispiace È un povero bambino e lo voglio salvare Dai, a primo, si Sì Aiutalo, aiutalo Vamo Ok Dai, dai, dai Magari vocemo Magari vocemo assabare anche quelli Sì, sì, te aiuto, te aiuto Oh, no Oh, no Oh, no Andate Una donna E' andato Mi dispiace però, ero un bambino Scelta difficile però, eh, perché questo mi aveva appena fatto il discorso sulla famiglia che è importante Eh, infatti, fuori da qui Boh, ci siamo giocati già l'unica occasione di Di avere un posto Dove stare I'm sorry Sorry? Your son is alive You don't get to be sorry And you? You didn't even try to help Ero preoccupato per il ragazzino Ero preoccupato per il ragazzino Guarda lui Ma non eri preoccupati per quello Please Just go Get out And never come back Inutile che fai così Mi dispiace, eh, non è che avrei voluto Ucciderlo Però era un bambino You've got that ride to make it if you want Ah, almeno quello Ok Madonna, ragazzi, sarà un gioco bello difficile Cioè, avrà scelte difficili, intendo questo Già questa è stata terribile Ok Ok Quindi adesso siamo... A Macon Mmm... Boh, non lo so Credo... Oh... E' una... E' uno zombie Eh, infatti Guardate quello Si trascina Boh La nostra avventura in The Walking Dead è... No, adesso si muore questo Ah, ok Oh 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 Se fosse morto il bambino avrei dovuto ricominciare il gioco da... No Perché avrei fatto una scelta inutile prima No 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 Ah, grazie No 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 Siamo ok No 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 Te Tranquilla, Clementine Vai No, non volevo No, non volevo dirglielo in quel modo Devo dirle E allora vai Non ho letto Però è una stronza non ha torto Ok Non è stato morto No, no, no Oh, se uccidi il bambino io ti spacco la faccia No, non lo faccio Non c'è una stronza non c'è una stronza Non c'è una stronza non c'è una stronza No, non lo faccio E allora Lillie, guarda il tuo cuore, papà. Tu devi calciarsi. Abbiamo ragione con lui. C'è il cuore di un cordone, magari? Nessuno ci ha scoperto il mio figlio. Tutto il cuore! Nessuno sta facendo nulla. Calma, Lillie! E tu? Calma! Ci troveranno! Ci saranno qui, e ci saranno qui. E nessuno ci succederà. Ma ora, stiamo cercando in qui con una delle cose. Cosa stai dicendo? E se fosse tua figlia? E se fosse tua figlia? Ah, quindi... Ah, quindi... Cosa stai dicendo? 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 Ehi, non sono il cazzo qui qui. Sono solo guardando la mia figlia. Non, tu sei solo il cazzo che raccoglieva per la città. E' coperto in mucca. E' troverà il cuore. Guardate! E non! E se però, ma l'altra cosa... E' solo un bambino. E' solo un bambino. E' un piccolo figlio. Credo che lo abbiamo fatto. Un piccolo figlio? E' un piccolo figlio! Inoltre un imponso controllo. man-eater